Riesplode il caso San Raffaele. Dopo alcuni mesi di relativa calma si riaccende lo scontro tra l'amministrazione dell'ospedale e i sindacati che denunciano la mancanza di un piano per il rilancio e l'accanimento contro i dipendenti. Dal 1 gennaio un regolamento interno all'ospedale sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro. I sindacati denunciano che ferie riposi compensativi sono stati ridotti con il nuovo regolamento e addirittura imposti, così come sono stati peggiorati i diritti sulla maternità e sui congedi per gravi motivi familiari e personali. Secondo gli accordi firmati per evitare i 244 licenziamenti il San Raffaele avrebbe sostituito il contratto nazionale con quello degli ospedali privati. I sindacati denunciano che questo regolamento entrato in vigore a gennaio è stato deciso unilateralmente dalla dirigenza dell'ospedale e non corrisponde al contratto degli ospedali privati. Per questo non è escluso che i sindacati ricorrano in tribunale. Sicuramente noi dichiareremo stata d'agitazione su questa questione assieme a Cisleviso e poi con i nostri legali stiamo approntando un'azione legale per valutare e impugnare questa situazione. Al centro delle polemiche è anche l'iniziativa dell'amministratore delegato Nicola Bedin che vorrebbe peggiorare l'indice stress lavoro imponendo condizioni peggiori. In una nota la direzione dell'ospedale smentisce i sindacati precisando che il nuovo regolamento transitorio non modifica diritti e condizioni economiche rispetto al contratto degli ospedali privati che entrerà ufficialmente in vigore al San Raffaele dal 1 gennaio del 2016.